ciao amici di italia top games sono davvero mortificato nei vostri confronti perché devo fare una rettifica della rettifica della rettifica della rettifica e andiamo avanti a lungo questa storia delle icon delle club edition di pes 2021 mi sta letteralmente uccidendo perché davvero mi arrivano feedback diversi mi segnalano tweet di adam batti ma dopo mi fanno presente anche delle cose scritte e devo farlo presente a tutti voi perché davvero c'è una certa difficoltà a comprendere in primis ringrazio tommy 80 e remo per avermi segnalato questa cosa perché è molto importante allora qualche ora fa vi avevo detto no le icone non si sommano anche se comprate due club edition barcellona juve ad esempio non è che avete sia messi che ronaldo lo avevo detto perché qualcuno mi aveva cazziato per il precedente video dicendomi non avevi non hai letto bene sul sito ufficiale di pes 2021 c'è scritto allora me lo sono andato a leggere un 50 volte e almeno a questo momento se la scheda ufficiale di pes 2021 riporta che i bonus pre order e gli altri contenuti possono essere solo ricevuti sull'account usato per acquistare il gioco e fino a qui non c'è niente non ci dice nulla cioè non è che io posso usare can su due account diversi che uso no lo posso usare solo su uno ma non ci dice in questo momento che le due icon non le avrò disponibili se compro appunto detto due versioni barcellona e arsenal manchester united e juve quello che volete poi dice solo questo pre order bonuses possono essere ripresi solo una volta anche se ordini edizioni multiple del gioco ecco qui è tutta la questione su cui conami spero ci chiarisca rudy si è mosso con i suoi contatti in alifax perché non abbiamo contatti diretti con noi con ami ma ce li abbiamo con il distributore italiano e ci auguriamo che ci possa dare una risposta chiara ufficiale definitiva io vi faccio presente questo che i pre order bonuses in tutte le schede che trovate sono il prestito di lionel messi e il tema ps4 solo per sistema ps4 appunto se vedete tutto il resto can la squadra il kit digital in game a new team il ps4 in ultima solo per ps4 il i ticket per rinnovare i contratti il premio agent per 30 settimane da nessuna parte c'è scritto che sono bonus pre order cioè questi potrebbero essere almeno da quello che si dice qui si può comprare la club edition anche il 20 di settembre o il 2 ottobre trovate le stesse identiche cose solo queste due non trovate e solo queste due non possono essere sommate se acquistate più club edition andiamo a vedere su xbox one è la stessa cosa tranne che non c'è il tema ma come vedete qui c'è scritto che tutto questo non è non è assolutamente pre order bonus neanche le 3000 monete sono bonus di acquisto gli unici bonus pre order sono messi e il tema ps4 se comprate ps4 se prendete per xbox one non c'è il tema ma il resto sembrerebbe che uno acquistando bayern monaco e acquistando manchester united si hanno le due icon disponibili si hanno le due squadre predefinite si hanno 60 premium agent per 30 settimane e si hanno sei contratti di ticket per 30 settimane o tre contratti per 60 settimane con ami non lo spiega questo non lo spiega ci auguriamo se qualcuno di con ami è all'ascolto in questo momento che facciano chiarezza definitiva in poche parole tutte queste cose qui can la squadra la squadra completa del bayern monaco se io le compro sia per pes 2021 e sia per il manchester united con beckham la squadra predefinita il manchester united eccetera si sommano le troverò tutte e due nel mio account avrò tutte e due le icon disponibili con ami per favore fai chiarezza perché lo ribadisco per l'ennesima volta ad oggi sul sito ufficiale si dice che non si possono sommare esclusivamente i preorder bonuses e i preorder bonuses lo vedete anche voi sono solo questi due per ps4 per pc xbox one solo il prestito di messi quindi se voi da quello che dice il sito ufficiale di konami acquistate bayern monaco e manchester avrete l'icon disponibile di beckham l'icon disponibile di can tutte e due ma non avrete solo un prestito di messi che è una robina pochino non vi trovate quindi potrebbe essere interessante comprare due club edition ci auguriamo davvero perché siamo stati un'ora con i ragazzi del team di peste italia a parlarne di domenica ad agosto preferiremmo fare altro ve lo assicuro però vogliamo dare l'informazione più completa e più dettagliata e più chiara possibile a tutti voi noi in questo momento la situazione è questa del sito ufficiale dice lo ripeto per l'ennesima volta che solo i bonus preorder possono essere riscattati una sola volta e preorder bonus sono questi non questi da nessuna parte c'è scritto che questi sono preorder bonus e quindi significa che si possono anche si potranno acquistare anche dopo il 15 settembre eccetera 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 io ribadisco vi chiedo scusa vi chiedo scusa perché non si può tornare su una stessa cosa cinque sei volte dicendo l'esatto contrario di quello che si è detto qualche ora fa ma ho seria difficoltà a comprendere vi ho cercato di mostrare tutti gli elementi spero di essere stato chiaro io cercherò di rispondere a tutti se ci sono ancora dei dubbi e spero davvero di avere al più presto una conferma da parte di konami su come stanno effettivamente le cose se tutti questi elementi questi qui questi 1 2 3 4 5 6 lasciamo perdere il menu team questi che ci interessano questi 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 e basta sostanzialmente questi qui poca roba 1 2 3 4 se noi compriamo due club edition raddoppiano dopo è indifferente se sono sei contratti per 30 settimane o tre contratti per 60 settimane l'importante è sapere se raddoppiano meno perché ci sono tanti giocatori anche questo è importante i 3.000 in 3.000 my club coins anche questi sono interessanti si raddoppiano qui anche qui vedete purchase bonus non pre order bonuses c'è qualcuno che su qualche commento era uscito anche in maniera un po così mi accusava di no accusava un po tutti di dire le cose sbagliate ma come si vede non è difficile non è facile non è facile comprendere in esattezza le cose qui io vi ripeto per l'ultima volta perché veramente sono sembrumatto che i pre order bonus solo possono essere riscattati una sola volta tutto il resto non lo dice da nessuna parte che non si possano prendere due icon il raddoppiare le monete raddoppiare i premium agent eccetera 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 io ringrazio ancora una volta tommy 80 e remo per avermi fatto presente questa cosa perché è veramente importante per gli appassionati e mi auguro davvero che nel breve giro nel giro di poco tempo spero la prossima settimana conami faccia un bel tweet un bel comunicato quello che vuole per spiegare con chiarezza ed esattezza come stanno le cose rinnovo le mie scuse davvero a tutti voi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo domani per il prossimo filmato con gli mvp della serie a e non solo ciao e a presto